Buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento con informazioni di Antenna Sud 85 e in apertura parliamo del decreto 1000 proroghe con una votazione nel corso della notte con giù le commissioni congiunte affari costituzionali bilancio della camera hanno soppresso l'articolo 21 del decreto 1000 proroghe che spostava 500 575 milioni di euro dalle bonifiche di taranto alla decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico Tornano i soldi per le bonifiche con una votazione notturna le commissioni congiunte affari costituzionali e bilancio della camera hanno soppresso l'articolo 21 del decreto 1000 proroghe che spostava 575 milioni di euro del patrimonio di ilva in amministrazione straordinaria dalle bonifiche dei siti inquinati ai futuri impianti di decarbonizzazione nella siderurgico di taranto Il voto è avvenuto intorno alle 2.40 tutti i partiti hanno votato per la soppressione dell'articolo solo la Lega Nord e Fratelli d'Italia hanno votato conformemente alla parere del governo Il deputato tanantino Giovanni Vianello del gruppo alternativa parla di sconfitta del governo Il vicepresidente della Movimento 5 Stelle senatore Mario Turco sottolinea abbiamo difeso le bonifiche dell'area più inquinata d'Europa e salvaguardato la possibilità di riqualificare e reimpiegare gli oltre 1000 lavoratori di ilva in AS da anni in attesa di un lavoro Non è più possibile sacrificare la tutela dell'ambiente e della salute per un imprecisato processo di decarbonizzazione Non accogliere la nostra corale richiesta avrebbe significato assestare un duro colpo alla città Ha aggiunto la deputata tarantina del gruppo misto Alessandra Ermellino Il coordinatore provinciale dell'USB Taranto Franco Rizzo commenta restituito il maltolto le risorse svincolate vengano utilizzate per i lavoratori Soddisfazione e commozione espressa dal Movimento 5 Stelle in particolare dai parlamentari del territorio tarantino dopo l'abrocazione dell'articolo 21 del decreto 1000 proroghe Le risorse finalizzate alle opere di bonifica e ripristino del territorio di Taranto non si toccano Lo aveva detto a gran voce il deputato pentastellato Giampaolo Cassese in merito al 1000 proroghe Nella notte nelle commissioni riunite bilancio e affari costituzionali della Camera è stato approvato l'emendamento di cui è stato primo firmatario Che sopprime l'articolo 21 che mirava a destinare i 575 milioni di euro alla decarbonizzazione dei processi produttivi di acciaierie d'Italia Sono le 3 del mattino, è stata una settimana davvero difficile per questo non vi ho aggiornato, ho preferito aspettare l'ultimo momento Anche oggi è stata una giornata molto molto faticosa Sono esausto ma davvero felice di aver raggiunto l'obiettivo Il nostro territorio meritava la nostra attenzione e non si poteva permettere un colpo di spugna di questo tipo Neanche al nostro governo Pertanto siamo andati avanti con determinazione Devo dire anche che tutti gli altri gruppi parlamentari, molti gruppi parlamentari hanno seguito il mio appello di essere uniti in questa battaglia E così è stato C'è chi non ha votato a favore di questo emendamento soppressivo Ma di questo parleremo nei prossimi giorni Ora sono troppo stanco, al tempo stesso entusiasta per aver centrato un obiettivo importantissimo Invece c'è una notizia che arriva sempre da quello che è stato le consultazioni che sono venute a Roma La consulta infatti ha respinto la raccolta firme dell'associazione Conscioni per quanto riguarda l'eutanasia Che resta considerato un omicidio I giudici della Corte Costituzionale in appena tre ore hanno deciso e definito che l'eutanasia è e rimane un omicidio E rimane perciò un reato punibile E' stato giudicato inammissibile dunque il quesito referendario proposto dall'associazione Luca Coscioni Così come non sono bastate il milione e duecentomila firme raccolte Con cui veniva chiesta la parziale abolizione dell'articolo 579 A tutela delle persone gravemente malate e terminali E quali oggi non sono libere di scegliere fino a che punto vivere nella loro condizione Anche in El Salento nel corso della scorsa estate si era mobilitata E i promotori dell'iniziativa sottolineano la loro amarezza per la decisione presa Noi tutti quanti auspicavamo che il nostro sforzo, il nostro intervento servisse Per poter ottenere questo referendum E si potesse arrivare ad una consultazione popolare Dobbiamo dire che abbiamo registrato la partecipazione spontanea Ai nostri banchetti di tantissima gente Tant'è vero che la raccolta delle firme ha superato di gran lunga il minimo richiesto dalla normativa Abbiamo raggiunto un milione e duecentotrentacinque mila firme A fronte di cinquecentomila che sarebbero state sufficienti Certo c'è una grande delusione, una grande amarezza Ma almeno c'è la speranza che la grande quantità di firme E la spontaneità con cui sono state raccolte Perché la gente veniva senza essere chiamata, ci cercava dove facevamo i banchetti Porti la politica a prendere atto che c'è la necessità di un suo intervento E che regolamenti una volta per tutte questa fattispecie È stato firmato a Taranto l'atto di compravendita dell'ex Banca d'Italia Ora sede della Facoltà di Medicina Firmato l'atto di compravendita dell'ex Banca d'Italia Oggi sede della Facoltà di Medicina di Taranto La Aslo Ionica acquisisce il pregevole stabile in Piazza Ebalia Per una somma di 4 milioni e mezzo di euro Come è noto in questo territorio di medici c'è grande necessità E adesso si potranno formare qui Già dall'ottobre 2020 il piano terra ospita le lezioni e altre attività didattiche Ci sono poi un piano semi-interrato e il primo e secondo piano Oggetto di interesse storico e artistico verranno valorizzate In accordo con la sovrintendenza dei beni culturali E anche grazie ai fondi arrivati dal tavolo istituzionale CIS E la collaborazione tra le istituzioni a diversi livelli Che ha portato allo stanziamento da parte della regione Puglia Nell'ambito del patto per lo sviluppo di oltre 7 milioni di euro Da Banca d'Italia è diventata la banca dei saperi Oggi conferenza dei servizi per fare il punto sullo stato dell'arte Dei lavori di rifunzionalizzazione del secondo lotto Per costruire altre 8 aule didattiche E ulteriori servizi di supporto alle attività degli studenti Tutto ciò nella prospettiva del Policlinico Universitario San Cataldo Qual è l'offerta al momento per gli studenti Ma anche quella che si prospetta, i piani per il futuro? Allora, noi abbiamo già i corsi di laurea di fisioterapia, di infermieristica Vari, il corso di laurea di medicina Con il direttore si discuteva proprio di questa formazione di secondo livello I master, i short master, i corsi di perfezionamento A Lecce invece il camper vaccinale farà tappa nell'area mercatale Il vaccino a Lecce approda anche nei mercati E così l'ASD di Lecce organizza nel mercato bisettimanale di Lecce In via Bari Un open day per la somministrazione del vaccino anti-covid moderna Per le persone dei 18 anni compiuti in su Verranno somministrate prime, seconde e terze dosi La vaccinazione ad accesso libero sarà effettuata nel camper ambulatorio medico mobile Dalle ore 9 alle ore 13 Inoltre, dal lunedì 14 febbraio, nei punti vaccinali di popolazione La somministrazione della terza dose viene ormai effettuata anche senza prenotazione Con accesso libero Prosegue inoltre l'accesso libero anche per prima e seconda dose A eccezione delle vaccinazioni pediatriche Nella fascia cioè tra i 5 e gli 11 anni Per cui è necessaria ed obbligo la prenotazione Il covid fa meno paura ma bisogna continuare a stare attenti Vaccinarsi per chi non l'ha ancora fatto Mantiene i giusti comportamenti Come spiega il direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL Michele Conversano I numeri del covid stanno calando velocemente a Taranto in Puglia Ma non è ancora il momento di abbassare la guardia Anche se la fiducia non manca Con la speranza di trascorrere serenamente i prossimi mesi Per saperne di più abbiamo fatto l'appunto della situazione Con il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Taranto Michele Conversano La situazione è quella che abbiamo vaccinato quasi tutti Quindi la vaccinazione, la risposta da parte della popolazione è stata molto ampia Adesso le vaccinazioni sono calate Perché effettivamente abbiamo raggiunto coperture molto alte Quindi questo l'abbiamo dimostrato E l'ha dimostrato il vaccino Perché abbiamo avuto costantemente le terapie intensive Sottooccupate Per fortuna con pochissime persone Quasi tutte non vaccinate Quindi è evidente che siamo Comunque facciamo ogni giorno Ancora circa un centinaio di nuovi vaccini Per adulti Al di là dei bambini che stanno facendo ancora altre Sia prime che seconde dosi Ma abbiamo ancora mediamente un centinaio di prime dose per persone adulte Abbiamo ancora parecchi casi positivi Ma per fortuna, ripeto, sono quasi tutti a casi ancora sintomatici E quindi abbiamo avuto Questa è una notizia che abbiamo avuto nel mese di gennaio A Taranto, in provincia, quasi 36 mila casi Quindi c'è stato veramente tantissimi casi Ma con, ripeto, 36 mila casi in un mese Con due persone soltanto in terapia intensiva E la dimostrazione che i vaccini hanno funzionato Oggi dobbiamo continuare a vaccinare Completare le vaccinazioni Usare i metodi di precauzione Che dobbiamo sempre usare Per cercare di limitare il contagio E augurarci che le cose possano, mia mano, sempre migliorare Giustizia per Taranto Si oppone all'archiviazione di una denuncia Presentata contro la diffusione di polveri sottili Sulla città Da parte dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia Contro l'archiviazione Giustizia per Taranto non ci sta L'associazione Ionica nel maggio 2021 Ha presentato una denuncia Contro la diffusione di polveri sulla città Il cosiddetto spolverio Da parte dello stabilimento siderurgico Tarantino di Acciaierie d'Italia La procura Ionica però ritiene di dover archiviare il procedimento Perché le emissioni non supererebbero i limiti di legge Giustizia per Taranto non intende arrendersi E' annunciato la presentazione di un ricorso Illustrato nella propria sede di Piazza Marconi Sino a maggio dello scorso anno Abbiamo presentato una denuncia contro lo spolverio di Ilva Tema assolutamente attuale Visto ancora gli sversamenti che ci sono in città E' stata fatta una richiesta di archiviazione Di questo procedimento Sulla base di una consulenza ARPA Che dice che non c'è superamento dei limiti I limiti però di legge Sono riferiti ai fumi Non alle polveri Per cui chiediamo al giudice Di rimettere alla procura Le indagini Di riaprirle E di accertare Le ipotesi di reato E i loro responsabili Esattamente come è stato fatto Con l'ambiente svenduto Dove sono stati puniti Individuati i responsabili Per lo stesso reato Cioè lo spolverio Sulla città Solo negli ultimi 15 giorni Abbiamo avuto ben 5 giorni Di wind days Al quartiere D'Amburi Ma in tutta Taranto Quindi ben 5 giorni Dove lo spolverio continua Dove i balconi Le finestre Vengono inondate di polvere Quindi Quindi chiediamo chiaramente Al GIP Di riprendere in mano La situazione E di poter aprire Di nuovo L'indagine Primo consiglio comunale A Neviano Dopo l'operazione dei carabinieri Che ha travolto L'assise cittadina L'opposizione Dopo aver chiesto Dimissioni del sindaco Ha abbandonato l'aula Non riconoscono I sottoscritti La legittimità Di codesta amministrazione A proseguire Il mandato elettorale Alla luce Dei gravissimi fatti avvenuti Negli ultimi 10 giorni Che hanno travolto La comunità nevianese I consiglieri Del gruppo Siamo Neviano Considerano Questa maggioranza Non più legittima Fino a Eventuali disposizioni Della prefettura Hanno abbandonato Il consiglio comunale I consiglieri di opposizione Dopo aver espresso Il proprio dissenso Sul proseguo Dell'attività politico-amministrativa Della giunta Guidata dal sindaco Fiorella Mastria Nel primo consiglio comunale Dopo il blitz dei carabinieri Che ha portato all'arresto E alle successive dimissioni Dell'ex assessore Antonio Mega È stato ufficializzato L'ingresso in giunta Del consigliere Sandravaglio E la carica di assessore Fabio Ramundo Condelega Randaggismo Viabilità e Agricoltura Il primo cittadino Mastria Assicura la non contaminazione Dell'operato Fin qui svolto Confidando Nel lavoro Della magistratura E continuando D'operare per la città L'amministrazione comunale Di Neviano Si dissocia E prende Le distanze Perché Totalmente Estrane Fatti giudiziali Contestati All'ex assessore Alla cultura Antonio Mega L'amministrazione Comunale Ha sempre Lavorato Sta ancora Lavorando E continuerà A lavorare Nell'assoluta Trasparenza Al pieno servizio Della collettività E sempre Per il bene comune Inoltre Ripone La piena fiducia Nella magistratura Taranto Scassina Una gioielleria Con un martello Intervento In pieno centro Il servizio Gianmarco Sanzolino Non ci ha impiegato Molto A colpi di martello A scassinare La vetrina Di questa gioielleria In pieno centro A Taranto In via di Palma Ha arraffato Quello che ha potuto Ed è scappato via Peccato però Che a riprendere Tutta la scena C'erano le telecamere Del sistema Di sorveglianza Esterni All'attività Ladro in azione Nelle ore notturne Ad intervenire Sul posto Poco dopo Sono stati gli agenti Della squadra mobile Di Taranto Che adesso Sarebbero sulle tracce Del presunto ladro Avendo acquisito I nastri Della registrazione Ad Aldo Lucaselli Decano Della categoria Dei gioielleri La solidarietà Dei colleghi Di fede preziosi Taranto E del presidente Marcello Perri Commentano Da conscommercio La procura Di Lecce Ha chiuso Le indagini Sull'omicidio Del maresciallo Dei carabinieri In congedono Silvano Nestola L'unico indagato Resta il 71enne Michele A. Protone Da novembre In carcere Resta un solo indagato Per l'omicidio Del maresciallo Dei carabinieri In congedo Silvano Nestola La procura Di Lecce Ha chiuso Le indagini Preliminari Confermando Le accuse Per omicidio Volontario Aggravato Dalla premeditazione Nei confronti Dell'imprenditore 71enne Di San Donaci Michele A. Portone E' stata chiesta Invece L'archiviazione Per la moglie Rossella Manieri Di 62 anni Anche lei Di copertino Che era indagata In stato di libertà Per l'omicidio Silvano Nestola Fu ucciso Con quattro colpi Di fucile La sera Del 3 maggio Dello scorso anno A copertino Davanti al figlio Di 11 anni Il movente Del delitto Secondo gli inquirenti Sarebbe da ricercare In una relazione Tra la figlia Di A. Portone Con la vittima Rapporto Che era stato Contrastato Dei genitori E che era poi cessato Ma senza che questo Fermasse Il piano Del presunto omicida A incastrare A. Portone Negli accertamenti Condotti Dai carabinieri Del comando Provinciale Di Lecce Sugli spostamenti Proprio la sera Del 3 maggio Di un furgone E di uno scooter Poi trovato Bruciato E fatto a pezzi L'imprenditore Fu arrestato Una prima volta E poi rimesso In libertà Dal tribunale Del riesame Per un vizio Di forma Poi il secondo Definitivo arresto Era inchiuso Nel carcere Giudiziario Di Lecce 69 attracchi Di navi da crociera Nel porto di Brindisi Ad annunciarlo La sua autorità portuale Del mar adriatico Meridionale Che presenta Una stagione Croceristica Da record Il 2022 di Brindisi Riparte dalle crociere Record storico Di toccate Per il porto brindisino Nella nuova stagione Croceristica Sebbene il calendario Non sia ancora definitivo Il programma croceristico Si propone Di battere Tutti i primati Negli scali Dell'adriatico meridionale La stagione inizierà Il prossimo 3 aprile E si concluderà Il 14 novembre Oltre alla consolidata Presenza di MSC Che torna Con MSC Armonia Di cui sono previste 32 stoccate Un'altra compagnia Brasonata Conferma la propria presenza Nello scalo messapico Si tratta di Costa Crocera Che scalerà a Brindisi Con Costa Luminosa Con 23 approdi Le restanti toccate Saranno effettuate Da altre compagnie Del settore lusso E Maxi Yacht Alcune delle quali Si affaceranno Per la prima volta in città Abbiamo infrastrutturato Durante la pandemia Tutti i porti del sistema Chi più chi meno I porti minori Che sono stati tutti dotati Di stazioni marittime Al porto di Brindisi Che ha una struttura In grado di accogliere I croceristi Nell'epoca del Covid Al porto di Bari In cui abbiamo realizzato Strutture temporanee Ci apprestiamo A realizzare La seconda stazione marittima E il mercato Ci ha premiato Il mercato ci ha premiato Scegliendoci In un periodo In cui La pandemia Però è ancora presente Quindi in un periodo Di transizione Quindi sono numeri Doppiamente Soddisfacenti Perché in assoluto Sono significativi Perché Siamo ancora In un periodo In cui Il mercato La croceristica Soffre Evidentemente Come tutto il settore Del turismo Ancora di Limitazioni Continueremo A infrastrutturare i porti Continueremo La nostra politica Sviluppista E siamo sicuri Che questi numeri Che sono già Eccellenti Potranno solamente Migliorare Al via Il terzo Congresso CISL Di Brindisi E Taranto Di scena Tenuta Moreno Di Mesagne Domani L'elezione Del nuovo Gruppo Dirigente Sfidare il cambiamento Partendo dalla valorizzazione Delle produzioni locali Agricoltura Turismo Comercio Artigianato Economia Industria Il terzo Congresso CISL Taranto Brindisi Di scena Tenuta Moreno Chiude in questa prima giornata Un ciclo importante Ed è pronto a lanciarne un altro E allora La sfida diventa una scommessa impegnativa Di fronte alla transizione digitale Energetica Ecologica Sociale Sì Questo oggi Terminiamo un percorso importante Abbiamo fatto 14 congressi territoriali Con tutte le categorie Dal metalmeccanico All'energia 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 All'agroindustria Ai servizi Al pubblico impiego Scuola Sanità Sono tanti i temi Che abbiamo affrontato In questi congressi I temi importanti Che hanno messo al centro Il lavoro Ed è questo il tema Che anche oggi Metteremo al centro Del nostro congresso Si parla tanto Di transizione ecologica Transizione energetica Noi vorremmo Che si incominciassi A parlare seriamente Di transizione del lavoro Davanti a noi abbiamo Due strade Una strada Che sicuramente Darà crescita Sviluppo Certamente Tante opportunità Di lavoro Ma abbiamo Dall'altra parte Una platea Tante lavoratrici Tanti lavoratori Che dovranno affrontare Grandi trasformazioni Ora spazio Ad un voto democratico Chiamato ad eleggere Il nuovo gruppo dirigente Che guiderà La confederazione territoriale Per i prossimi Quattro anni La sfida al cambiamento È appena iniziata Consorsi di bonifica Commissariati di Puglia Lavoratori precari Da vent'anni La fondo Della Flai CGL Si va verso Il tavolo di crisi Precari da vent'anni A causa di una mancata Riorganizzazione Con l'avvicinarsi Della nuova stagione In rigua A Taranto Si ripresenta Un problema Annoso In Puglia I quattro consorsi Di bonifica Sono commissariati Ormai dal lontano 2004 Già nel 2017 Il consiglio regionale Pugliese Votò a maggioranza Per sopprimerli E far confluire Tutte le attività In un centro unico Ad oggi però Tutto è rimasto Sulla carta Con gravi ripercussioni Soprattutto sui lavoratori Come ci spiegano Dalla Flai CGL Di Taranto Nonostante i numerosi Servizi offerti Nel consorzio ionico Lo Stornare e Tara Ci lavorano 39 operatori Con contratto a tempo Indeterminato 10 a tempo Determinato E 24 stagionali Nelle ultime ore C'è stato Un nuovo confronto Sul tema Il lavoro ordinario Viene diciamo Accompagnato In retto Da quei lavoratori Che sono precari Ma chi ha causato Questa agonia Prolungata Una scelta politica Da parte Della regione Puglia E da parte Del commissario Straordinario Tanto è vero Che chi lavora Presso i consorsi Di bonifica E quindi I lavoratori precari Potrebbero essere Stabilizzati Attraverso O una chiamata Diretta O attraverso Un avviso pubblico Ci sono possibilità Anche in tempi brevi Abbiamo chiesto Insieme Alle altre sigle Sindacali Di convocare Con urgenza Un tavolo Di crisi aziendale Adottato A Francavilla Fontana Il piano urbano Della mobilità ciclistica Adottato Il piano urbano Della mobilità ciclistica La giunta comunale Ha avviato L'interamministrativo Che doterà La città Di Francavilla Fontana Di un nuovo strumento Per la mobilità sostenibile Si tratta Di un ulteriore Tappo Di un percorso Che ha già ottenuto I primi risultati Concreti Con il finanziamento Da 853 mila euro Da parte Del ministero Delle infrastrutture Per la realizzazione Di un percorso Ciclo pedonale Legato ai luoghi storici Per il sindaco Antonello Denunzio Il futuro di Francavilla Passa attraverso La sostenibilità ambientale Ed economica La bici dunque Non diventa Solo uno strumento Di svago Ma anche Un utile mezzo Di trasporto Stando alle intenzioni Degli amministratori comunali Il primo intervento In programma È la creazione Della zona 30 Del quartiere Peraro Che prevede La creazione Di una pista ciclabile In via Caniglia Che si collegherà Con il percorso esistente Nel quartiere San Lorenzo Per l'assessore All'urbanistica Nicola Lonocce Ma così il futuro Assetto della città In maniera più smart Lo scopo principale Del piano urbano Della mobilità ciclistica È quello di ridistribuire I flussi di traffico Consentendo il transito In sicurezza Delle biciclette Sino a tre anni fa Dice l'assessore Sergio Tatarano La mobilità sostenibile Era un tema sconosciuto Per la politica locale Come afferma Tatarano C'è ancora molto da fare Ma il sentiero È stato già tracciato Per una città Più sostenibile Dal punto di vista Della mobilità Condomini Sempre più smart In Salento Arrivano le baccheche digitali Dove sarà possibile Leggere gli avvisi Condomini smart In Salento Grazie all'installazione Di nuove baccheche digitali Che consentono Ai residenti Di interagire Ed avere informazioni utili E documentazione Non solo legata Allo stabile Ma anche su servizi Offerte Promozioni Disposizioni comunali E sulla corretta raccolta Dei rifiuti Che riguardano Da vicino La zona In cui vivono Si va ad eliminare Quello che è il cartaccio Per avere Una comunicazione Appunto digitale Attraverso la quale Tutti i condomini Possono verificare All'istante Le comunicazioni Urgenti Del palazzo E qualsiasi genere Di informazione O semplicemente Di rottura Del citofono Eccetera Lo si può comunicare In bacheca E noi stessi Comunichiamo anche Che abbiamo Dato mandato Al tecnico di turno Per la sistemazione Del danno C'è anche la possibilità Di un sondaggio Mediante una domanda E quindi un sondaggio Dare un'adesione Da parte del condomino Affinché si possa capire Qual è la migliore percentuale Qual è la percentuale Più giusta Per poter Scegliere Quella risposta A quella domanda Che abbiamo fatto La bacheca È anche un multi device Quindi di conseguenza Attraverso Un'applicazione Che può scaricare Sul proprio cellulare Sul tablet Può verificare E consultare Tutta la documentazione Che già è Nella bacheca Che si trova Nell'atrio Del condominio Anche attraverso Questi dispositivi I più tecnologici Saranno soddisfatti Di questa soluzione Quelli un po' più anziani Come la stanno prendendo? Beh sicuramente Non come i primi Però cercheremo Di aiutarli Quindi poi Le applicazioni Oggi le usiamo tutti Anche le persone più anziane Quindi saremo noi Ad aiutare A supportarli Anche in questo Ed era questo Il nostro ultimo servizio L'informazione Di Antena Sud 85 Ritorna puntuale E in diretta Domani mattina Alle ore 7 Da Matteo Bottazzo Un buon seguimento Di serata In compagnia Della nostra programmazione Grazie a tutti